Tanti studenti, anche fuorisede, che non appartengono davvero all'Emilia-Romagna ma che comunque in un modo o nell'altro sono legati a questa regione per motivi di studio o per lavoro hanno creato una vera e propria catena umana di solidarietà per velocizzare le operazioni di rimozione. Sarebbe bello invitare qualcuno qui in studio. Guarda, sarebbe stato bellissimo, infatti, lo abbiamo fatto. No, vabbè, ma che programma siamo? Chi abbiamo? Maricla? Abbiamo in collegamento Martina De Tommaso, direttamente da Forlì. Ciao Martina. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Allora Martina, intanto diciamo da dove vieni e che cosa ci fai lì a Forlì? Tu vieni da Casa Massima, la ridente. Sì, 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 vengo da Casa Massima e al momento sto studiando a Forlì Scienze Internazionali Diplomatiche per la laurea magistrale, quindi sono qui da ottobre in realtà, non da molto. Che giornate sono? Scusami. Niente. Come? Che giornate sono? Credo ci sia tantissimo da fare. Sì, sono giornate molto impegnative, sicuramente anche e soprattutto per noi studenti che stiamo dando una grande mano un po' a tutti, però sicuramente sono anche giornate in cui si vede la grande forza di volontà di ognuno di noi e la grande bontà d'animo delle persone che vivono qua, che tra l'altro con un sorriso riescono ad andare avanti e soprattutto ci ringraziano continuamente di quello che stiamo facendo per ognuno di loro, insomma. Quindi cerchiamo di aiutare come possiamo. Intanto complimenti per tutto quello che state facendo, perché chiaramente insieme a te tanti altri giovani volontari, quindi bisogna ribadire questo sostegno, questa solidarietà che state dimostrando. Ma quando avete capito che sarebbe stato necessario il vostro aiuto? Beh, sicuramente martedì 16, quando è andata via l'elettricità o comunque il Wi-Fi, c'è stato il momento di panico in cui sicuramente abbiamo capito che c'era bisogno di dare una mano. Poi fortunatamente molti di noi fanno già parte anche di associazioni di volontariato, quindi c'è stato un diffondersi del messaggio veramente in maniera repentina e di fatti già giovedì siamo andati un attimo a consegnare cibo o qualsiasi cosa di cui avesse bisogno la gente e poi grazie a Whatsapp, Instagram ci siamo sentiti tra di noi e ci siamo attivati un po' tutti. Abbiamo visto che comunque l'acqua fosse arrivata quasi diciamo a 10 minuti dal centro di Forlì, quindi mancava veramente poco. Questa è un'immagine davvero molto bella che ti riprende lì sulla sinistra con la pala, quindi davvero davvero tanti complimenti e la situazione attuale qual è? La situazione attuale sicuramente c'è ancora un gran lavoro da fare, ma ad oggi cercano ancora volontari o comunque gente che aiuti, che vada semplicemente anche a spostare mobili o qualsiasi oggetto che sia nelle case ancora. Fortunatamente il tempo è dalla nostra parte, quindi non piove, quindi almeno un aspetto positivo, però diciamo che c'è ancora un bel lavoro da fare perché alcune zone sono ancora comunque sommerse di fango purtroppo. I collegamenti come sono? Se dovessi aver bisogno di scendere a casa, riusciresti? Sì, al momento stanno sbloccando la tratta adriatica, però appunto fino alla scorsa settimana, fino almeno a questo lunedì, era tutto bloccato. Man mano si stanno sbloccando anche autobus e mezzi per raggiungere altre città vicine, quindi man mano si sblocca la situazione. Che dire, siamo con voi, grazie mille per questo contributo, vero Maricla? Assolutamente, grazie Martina, grazie davvero per averci dato la possibilità di capire che cosa sta accadendo lì. E ancora complimenti, tanti complimenti. Noi Andrea...